Ciao astronomi! Quando vuoi fare astronomia professionale, se sei un amatore o un ricercatore, la qualità del cielo è molto importante. E' per questo che le osservazioni astronomiche sono construite a locali rimani. Oggi siamo in Val di Fiemme, una delle locazioni più belle del Dolomite. E qui troviamo l'observazione astronomica dell'Observatorio dell'Associazione di Fiemme. Da questo apprezzato, gli astronomi amatori attualmente conducono un risultato globale da mostrare la bellezza del cielo a quelli che vivono in hotel vicino, visitando da tutto il mondo. Per fare questo, abbiamo installato un telescopio di circa 20 in, con un telescopio di circa 20 in, insieme a un rifrattore apocromatico in parallelo, tutto montato insieme a una grande ecturale. Il problema che facevano qui è il stesso problema che gli astronomi facevano all'interno del mondo. Come controllo e poterli tutti i dispositivi che necessitano per usare con il telescopio. Per esempio, perché delle dimensioni dell'interno, se hanno un computer in un'interno separato 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 perché il cable USB 3 sarebbe semplicemente troppo lungo. La soluzione è l'ego, computer, distribuzione, due controllo, e più, o in un solo, un componente solido che diventa una parte integrata di un telescopio. In questo modo, possono collegare tutte le cameras e altri dispositivi direttamente a l'ego con corde USB o cable USB e eliminare altre complessità di più necessità. Ci servizi di potenza di tutti i dispositivi come cameras, focusers e rotatori possono essere eliminati perché possono essere direttamente all'ego. Possono anche essere rimotamente all'ego. Possono collegare all'ego direttamente via internet integrato o via standard in internet per controllare il telescopio. Questo può anche aiutare l'ego di attivare l'internet per attività e streamare le immagini in real-time a una grande screen per i visitatori di osservatori. Tutte queste capacità rendono l'ego l'ultima soluzione per attivare attivare e controllare tutti i dispositivi usati nel vostro osservatorio. per più contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un pro abbiatevi al nostro canale e clear skies!